we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi un paio di orrette e mezza più o meno al fine della stagione numero 8 ragazzi alle 10 andranno giù i server per la patch numero 99 come il numero della season alla quale andremo incontro assieme nella live che inizierà proprio alle 9 e mezza questa mattina vedremo l'x vivremo la fine della season 8 vivremo l'inizio della season 9 quindi ovviamente vi aspetto in tantissimi per divertirci assieme nel video di oggi però ragazzi voglio comunque parlarvi di alcune cose interessanti sempre riguardanti ovviamente la nuova season ma anche di una teoria molto interessante che sta cominciando prepotentemente a farsi piede su reddit sui post relativi a fortnite che pare riguardi i boss finali fortnite epic games ragazzi ha fatto delle cose durante questa season in prevenzione ad un possibile boss finale ma parleremo anche di alcuni leaks molto molto interessanti ovviamente che non faranno altro che accrescere il nostro hype per questa nuova season prima però ragazzi voglio ringraziarvi per utilizzare il mio codice creator xioderone nello shop grazie di cuore per sostenermi grazie di cuore quando scioppazzate di prepotenza iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi la domandina dai fatemela fare la domandina proprio quella easy easy ed è una domanda che riguarda proprio il finale di questa season o meglio le ultime due skin che abbiamo visto ieri chi preferisci tra aura e gilda non chiedetemi perché lui l'abbiamo chiamato gilda probabilmente era guido però io non ne ho davvero parole ragazzi a me piace di più lei mi piace di più sono bellissime tutte e due ringrazio per averme le regalate ma lei è molto molto bella ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance non perdiamoci un attimo d'animo perché voglio due secondi soffermarmi a parlare proprio di queste due skin che viste così non vi dicono nulla ragazzi perché sfido uno di voi a sapere quello che sto per dirvi queste skin ragazzi in realtà le avevamo già viste ben quattro mesi fa sapete dove ve lo dico io ragazzi su reddit dove un intanto sposto un secondo aspetta così la vedete bene aspetta vediamo se riesco a toglierlo niente lo togliamo e va vangulo qualcuno aveva pubblicato nelle proposte da fare ad epic games proprio questo disegno e beh ragazzi sono palesemente le skin uscite ieri per la prima volta ovviamente non ci sono i backpack come vedete ma non è escluso che invece possa arrivare quel bellissimo piccone ragazzi stiamo parlando di quattro mesi fa quindi indicativamente a fine gennaio più o meno tanta tanta roba questo vuol dire che epic games comunque ascolta i suoi fan cerca sempre di soddisfare i lavori migliori perché comunque penso che gli serva anche per prendere spunto quindi chissà che magari qualche vostra creazione se l'avete mandata possa prima o poi diventare una skin ufficiale ma andiamo subito a vederlo eccolo qua l'avete già visto sicuramente in tutte le salse il teaser numero 3 di questa season ragazzi la o molti di voi hanno detto la w io avevo detto nel video di ieri secondo me invece sarà una o che andrà a formare la scritta neo cosa vuol dire neo questa giustamente è la domanda che ci si pone principalmente in queste ore di attesa per la season numero 9 allora ragazzi neo dovrebbe voler dire near heart object quindi oggetto vicino alla terra ma potrebbe anche essere interpretato come nuovo novità ed effettivamente tutti i teaser tutte le descrizioni dei teaser parlavano del futuro il futuro è luminoso il futuro è inclinato dice l'ultimo teaser di oggi il primo diceva il futuro è non me lo ricordo però futuro ci sarà probabilmente ragazzi questa scritta potrebbe andare a confermare insieme al video che abbiamo visto ieri della descrizione della season 9 che è già nel sito di epic games ma ancora non pubblica che ci saranno grandi cambiamenti alle siti si parla ragazzi di una tech town quindi una tilted tower modificata e modernizzata un'ambientazione futuristica che potrebbe davvero andare a sconvolgere le principali siti e dare alla mappa una spinta in più verso il modernariato ma questa ski questa questo screen ragazzi questo teaser nasconde in realtà un oggetto che o meglio un'immagine che sicuramente andata sotto gli occhi di tutti e ve ne avevo già parlato nel video di ieri pomeriggio ovviamente al polso all'avambraccio di questa skin che a me sembra palesemente operazione divertimento con il cappuccio il tizio con i capelloni quella ragazzi è una mappa o meglio è la mappa voglio però prima di dirvi e alcune cose voglio farvi vedere questo video un passo indietro un passo indietro ragazzi all'evento che tutti ci ricordiamo sicuramente il vulcano che esplode le rocce di fuoco quindi l'evento rock che vanno a distruggere corso commercio ma attenzione guardate bene tutti sanno anche che oltre alla roccia caduta su pinnacoli pendenti c'è una roccia che ha impattato sul ghiacciaio di picco polare ghiacciaio che molto probabilmente già sapevamo potrebbe frantumarsi o meglio sparire guardate ragazzi che cosa molto molto interessante una delle due teorie su quell'oggetto sull'avambraccio del tizio se noi andiamo a sovrapporre e adesso lo vedrete all'immagine la mappa guardate un po la mappa di fortnite guardate ragazzi che curiosità che viene fuori guarda un po tanto mi preparo a mettere in pausa vedete ragazzi guardate è molto molto vicino a picco polare potrebbe non significare assolutamente niente ma potrebbe anche voler dire che potrebbero esserci nuove modifiche al bioma ghiacciato ed è molto molto curiosa questa cosa perché comunque ci fa capire che sicuramente qualche modifica ci sarà senz'altro ma c'è anche una cosa molto interessante che alcuni hanno detto e secondo me potrebbe essere la più plausibile vi faccio vedere un'altra immagine guardate un po ve lo ricordate ragazzi qua siamo credo in season o quattro o cinque season nella quale per pochissime ore non più di due è apparso le eyes of the storm tracker che cos'è le eyes of the storm tracker per chi non l'ha vissuto io me lo ricordo bene è una specie di backpack anzi è un backpack che come vedete qua non lo vedete ma utilizza uno slot delle nostre armi ma ci permette di sapere in anticipo il nuovo cerchio della tempesta e potrebbe ragazzi davvero essere questa l'immagine relativa al all'oggetto sull'avambraccio della nostra del nostro teaser numero 3 ci sono molti altri backpack che epic games fece parecchie season fa quello che ci fa volare lies of the stormy adesso non me li ricordo tutti ma erano otto vi avevo fatto un video con tutti e otto i backpack potrebbero ragazzi questi essere sicuramente una sicuramente no potrebbero essere probabilmente una delle novità principali in questa season numero 9 sarebbe davvero il caso di vederli in game beh ragazzi io non posso che augurarvi di rimanere qua dalle 9 e mezza perché inizieremo la nostra grande maratona verso la stagione numero 9 vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo fra poco in live ciao